cari amici di inter tv.it bentornati alle video news vi presento subito alla nostra destra puntata speciale michele borelli e alberto piton per il gioco della torre buonasera signori ciao alberto abbiamo un po invertito i ruoli perché mi vuole far fare che viene il gioco della torre perché dice facile solo chiedere adesso rispondi io non mi tiro indietro mando io le domande aspetto le vostre bravo è subito spigliato così non esageriamo se non ci crede allora siete pronti siete cari prontissimi scordatevi che quando si fa un gioco mettiamo le linee alberto bisogna dare il massimo concentrazione tattico tecnicismo tutto io la voglio mettere agli atti la nostra formazione così poi vediamo l'allenatore qui ci valuta dobbiamo stare attenti allora partiamo subito in porta abbiamo andanovic o berni c'è anche carrizo già mi butta giù carrizo già è già caduto dalla torre carrizo allora io andanovic naturalmente rispetto a carrizo e berni però dopo quello che è stato detto nei giorni scorsi anche dal procuratore di andanovic c'è che lui rimanda a settembre ogni discorso per quanto riguarda il rinnovo ecco io rimanco invece sulla linea di quello che aveva detto sia fassone prima è ausilio negli ultimi tempi c'è o si rinnova entro entro luglio nemmeno arriva perché già giugno doveva essere la deadline o si rinnova oppure andanovic deve portare un'offerta quindi lui o porta l'offerta o firma il contratto se non succede nessuno di queste di queste due cose io andrei anche a cercare un altro portiere perché all'inter deve giocare chi ha grandissima voglia di assolutamente assolutamente d'accordo con te è chiaro che sarebbe facile gioco in questo caso a favore di andanovic però anch'io sono d'accordo si è sempre detto che aveva molto mercato questo mercato finora non l'ha avuto anche in una sessione estiva in cui sono cambiate molti molti estremi difensori di alcune squadre importanti anche europee quindi speriamo o porta un'offerta sono d'accordo con te già doveva essere per il 30 giugno rinnovo o se no deve firmare rimarrà comunque io poi spero che prima o poi raffaele di gennaro un po come come zenga dagli spalti al campo prima o poi possa diventare titolare nell'inter ma quindi lasciamo andanovic per un momento accendiamo andanovic accendiamo andano con l'asterisco se il 31 luglio non porta non porta il rinnovo può partire secondo ruolo terzino destro montoglia o d'ambrosio ai 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 io montoglia anche se una scommessa l'abbiamo visto meno che d'ambrosio che comunque un giocatore che a me piaceva appunto su montoglia un po per fiducia un po per i 15 anni nella cantera speriamo che qualcosa porti all'inter allora premettendo che sono tra i pochi estimatori di d'ambrosio perché nell'ultima stagione soprattutto tra i nostri opinionisti aveva ricevuto tantissime critiche dico che però da montoglia mi aspetto la possibilità di essere titolare anche perché è arrivato per giocare con più continuità quindi voto anch'io la m di montoglia esatto perché perché è venuto per quello è venuto per fare la panchina quindi accendiamo montoglia poi primo difensore centrale abbiamo murillo ora nocchia e c'è anche andreolli che ancora nella nella rosa c'è ancora andreolli però bisogna dire sarebbe che prendiamo il rosso quindi prendiamo chi ha acceso in verde abbiamo murillo ora no curi di ora no per me vale lo stesso discorso fatto per il ballottaggio montoglia d'ambrosio voto murillo è un po' una scommessa anche in questo caso però secondo me può essere un punto fermo io tutta la vita jason murillo perché senza dubbi sono un estimatore del del ragazzo e secondo me anche se farà degli errori sicuramente non sentiremo mai più l'allenatore dell'inter dire ammarcato da bravo ragazzo perché è stato troppo buono e quindi ranocchia deve tirare fuori gli artigli e le unghie e deve dimostrare dal proprio un difensore non può essere associato alla parola è troppo buono nella marcatura secondo me poi l'inter ha una tradizione grandissima per quanto riguarda la difesa e certi e in certi scempi dietro non si possono più vedere quindi essere messo così tanto in discussione secondo me deve tirare fuori per forza la personalità quest'anno in ranocchia no è stata dalla fascia di capitano quindi il ruolo importante quest'anno per vari motivi anche ovviamente per per sue mancanze murillo abbiamo nato diamo moriglia murillo quando abbiamo il primo con la prima condivisione di pensiero questa sera siamo d'accordo secondo difensore centrale con anche montoglio sì però molto e ti vedevo un po più perplesso no perché no sì no è vero perché secondo me d'ambrosio se la gioce nel senso sull'altra non c'è partita ok secondo difensore centrale miranda vi dici o lo stesso qua di gesù miranda miranda anche se io sono un estimatore di vidici però dico la verità soprattutto nell'ultima fase di stagione quando avuto la possibilità di giocare l'intera migliore migliorata però dal punto di vista fisico l'ho visto troppo incalando io mi aspetto che in questo ritiro in quest'estate dal punto di vista fisico dia delle risposte in più ha già cominciato con la lombalgia l'affaticamento secondo me gli anni forse si iniziano a far sentire e quindi miranda viene per giocare titolare anche secondo me siamo d'accordo anche in questo miranda assolutamente giocatore cercato e giocatore che ha cercato l'inter in questo caso nel senso che poi ha scelti nerazzurri come abbiamo detto anche altre volte giocatore importante d'esperienza con l'età giusta e che può finalmente comandare la difesa anch'io sono stimatore di vidici però non avrebbe senso quasi c'è un balottaggio perché credo che se hanno comprato miranda forse vidici non riscuote poi tutte queste preferenze lo state che sia anche lui un giocatore d'esperienza di qualità secondo me in mezzo alla difesa diciamo che per quello che è la nostra difesa potrebbe essere l'unico punto fermo per le esperienze che può dare che sono tutti giovani tiassino sinistro abbiamo santon o se arriva zucanovic però 5 ne abbiamo credo e abbiamo tanti vi dico santon agatomo di marco dodò o zucanovic zucanovic dovrebbe arrivare si anche di essere del chievo ha confermato vediamo mettiamo ipotesi che arriva questa kevin ha diviso e il ballottaggio che ha diviso di più nostri ospiti 50 e 50 nei primi giorni poi questa è la quinta puntata del gioco della torre individerci anche noi alla fine poi santone è passato in vantaggio su zucanovic io voto invece zucanovic perché voglio a sinistra un terzino che abbia sia la propensione nella fase difensiva e zucanovic secondo me può essere anche bravo di più di santoni in fase difensiva e soprattutto mi piace vedere un terzino che poi col sinistro che se la deve portare sempre sul destro non per colpa di santon lo fa anche nagatomo però avere un terzino che col sinistro santon se la dovrebbe giocare secondo me a destra il problema che oggi a destra sarebbe terzo e quindi capisco perché può essere messo sul mercato voto zucanovic io vado controcorrente voto santoni invece in questo caso boccio anch'io gli altri anche se dodò era un giocatore che a me piace però effettivamente l'anno scorso ha avuto molti problemi l'abbiamo visto poco più sono d'accordo con te su dodò io come vice zucanovic vorrei nella rosa dodò perché è un investimento fatto e giovane secondo me sulla fase che dicevamo prima i cross lui è bravo il problema che deve migliorare dietro però secondo me anche lui è anche giovane ad oggi voto santon nel senso con giocatore che conosciamo che abbiamo visto italiano che comunque ha fatto bene l'anno scorso secondo me fino a quando l'abbiamo visto in campo zucanovic mi sembra ancora troppo un'incognita ma anche le punizioni vediamo se lo convinco l'anno scorso col chievo è stato decisivo quindi per il nostro direttore zucanovic uno a uno il nostro alberto piton santon uno a uno rimane la divisione e la divisione sul tersino sinistro in mezzo al campo abbiamo un intoccabile però ve la faccio lo stesso abbiamo con dobbia brozovic guarina con lo stesso guarino 30 milioni più bonus io li metto tutti in campo e le mie fisce poi un metro e 90 è un giocatore che il nuovo tour e come ha detto sia mancini sia moratti sia tohir un tour e giovane secondo me quando via arriva per giocare brozovic deve rimanere e guarin si deve convincere che deve andare a dimostrare il suo valore più lontano posti dopo tre anni e mezzo all'interno mi dispiace perché è un giocatore perché da cui mi aspettavo tanto purtroppo tra alti e bassi non ha mai fatto quel salto definitiva da 29 anni e quindi secondo me tra i vari sacrifici uno deve essere sacrificio si può chiamare guarini sacrificio nel senso che se anche arriva un'offerta non altissima siccome la plus valenza si può fare anche con un'offerta bassa io guarin lo vedrei anche in partenza con dobbia beh io sono anch'io ovviamente d'accordo su con dobbia giocatore che ha cercato anche lui ha scelto più che cercato l'inter avendo comunque anche lui moltissimo offerte in campo europeo al di là poi della della concorrenza del milan battuta poi all'ultimo momento d'accordissimo su brozovic lo sai che anche per me resta comunque un pupillo giocatore giovane molto forte adattabile su guarin d'accordo anche qui nel senso che il giocatore cade l'uso nonostante sia stato impiegato anche con grande continuità credo che abbia poco mercato questo sia il nodo un pochino di guarini che abbia sempre avuto poco mercato quindi anche offerte fantomatiche che si erano palesate del valenza eccetera sia state più una butade mediatica magari che effettivamente offerte concrete come per andanoic sono stati tanti rumori che poi in realtà non sono mai stati concreti sennò sarebbero stati entrambi i giocatori venduti però guarini non vuole andare via secondo me mancini che non gli ha mai detto chiaramente esatto c'era anche quel famoso discorso lì dell'enatore che non aveva mai detto secondo me non glielo dice nemmeno adesso direttamente al giocatore se era in partenza o no o se contava su di lui secondo me mancini ha dimostrato però se si porta un felipe melo e un altro guarini da quel punto di vista no per tanti motivi perché a lui ha dimostrato più volte ogni volta che guarini è stato bene con mancini ha giocato anche quando non era al cento per cento quindi sono curioso di vedere luglio agosto cosa succede cosa succede tra mancini e guarini perché se mancini dimostra ancora di schierarlo sempre dobbiamo cambiare idea ogni giorno ci riserva delle sorprese secondo centrocampista siamo sempre 4 2 3 1 quindi secondo centrocampista abbiamo medel new curie o la x del nuovo acquisto quindi può essere suarez può essere felipe melo può essere tiago motta può essere un colpo di mercato all'ultimo a sorpresa a sorpresa e tu la lancia non fosse stato per la famiglia la moglie magari sarebbe arrivato proprio lui e avrei quasi scelto tra tutti i nomi che si non per il capello bianco che mi accomuna ma per e non è non è facile allora io a sorpresa ti dico restiamo così nel senso che tra i nomi che kevin ha fatto non vedo quello che ti fa fare il grande salto di qualità anche se mancini espresso in conferenza stampa che sia medel sia suarez che felipe melo potrebbero essere utili siccome secondo me non sono diciamo dei fuori classe e quest'anno magari non si può arrivare per situazioni economiche al fuori classe io li vedrei ti dico a sorpresa kovacic se giochiamo a due perché nella dinamo zagabria lui lo faceva e secondo me con un condobbià che ha tanta fisicità tanta corsa se a condobbià gli si chiede di rimanere più bloccato di non seguire l'istinto di crescere tatticamente kovacic deve partire da dietro e bisogna crederci avere fiducia in questo giocatore perché poi lo so che kevin magari ce lo ripresenta in ballottaggio con più davanti con ernales invece secondo me davanti non è il suo ruolo anche se mancini spesso lo sceglie più davanti io dico in quel ruolo kovacic o brozovic cioè teniamoci chi abbiamo e spendiamo il cash sull'attaccante ma io non vedo invece un kovacic kovacic in quel ruolo soprattutto perché giocando a due ho paura che non sia adatto appunto a quella posizione lascerebbe magari un po scoperta la difesa in questo caso credo che sarà più un giocatore di quantità che di qualità dal mio punto di vista ecco non vedo tra i nomi che hai fatto l'alternativa giusta io mi giocherai la x diciamo che l'aiuto da casa la telefonata vediamo che giocatore telefona diciamo che le alternative che abbiamo dato tra motta felipe melo non ti esaltano non esaltano moltissimo ecco ma su di questi mario suare sicuramente l'azienda si parla si separato molto anche di lei è vero però mario suare secondo me il giocatore che si adatterebbe meglio per il cognome quindi sa bene porta bene quindi seconda disparità dalla partenza passiamo al reparto proprio offensivo abbiamo a destra chakiri vi abbiani anche se sappiamo che comunque pian piano rientrerà ma non titolarissimo e poi possiamo giocarci dai la ipotizzo io un eventuale sala sala quindi chakiri sala di abbiani questa non è facile si parla anche di jovetici posti per gli extracomunitari 150 milioni di euro in ballottaggio no l'extracomunitario può ne può arrivare uno quindi tra sala i jovetici uno io continuo ad andare sul discorso di prima e quindi io magari anche per quello che venirti incontro sul discorso che magari kovacic condobbia ne hanno bisogno di un altro allora io glielo darei l'altro che può essere brozovic vorrei vedere ernane strequartista prendere i jovetici o anche sala mi va bene tutti e due e li metterei come seconda punta quindi con il rombo anziché il 4 3 il 4 2 3 1 il rombo con ernane strequartista mi va bene sia sala che jovetici veramente 50 e 50 perché mi piacciono tutti e due su shakiri se per un problema finanziario l'inter ha bisogno di rientrare dei conti e lo deve mettere sul mercato mi arrendo ma se invece non c'è questa necessità siccome lui ti può far sia cambiare modulo e sia essere un trequartista al posto di ernanez io lo terrei perché secondo me puoi giocare con shakiri dietro uno tra sala i jovetici e i cardi quindi shakiri è stato un investimento molto importante da parte dell'inter a gennaio sia a livello tecnico che poi economico si sono si è speso una cifra intorno ai 15 milioni quindi comunque un giocatore su cui puntare certo lì vincerebbe all'ottaggio molto facilmente insomma con via biani certo che sta però lì ti mette anche il nuovo esatto se poi si parla di sala ha visto anche il tipo di gioco che vuole fare mancini con le ali o perlomeno quello che si è detto fino ad essere un silvio dice a mancini riprendo sala però dobbiamo vendere shakiri tutta sala e 2s beh secondo me si adatta meglio sarà il suo tipo di gioco sinostante dispiacerebbe non avere shakiri rosa per il giocatore che piace molto che però credo non abbiamo potuto valutare fino in fondo quest'anno chiede sai che da qua si vede tutto in maniera diversa allora continuiamo avere avere il forzo della situazione ci sarà anche il ballottaggio kevin michele poi dopo no per la posizione della panchina allora trequartista vi propongo tre nomi ernane scovacic e un eventuale io vettic e io voto voto ernanez perché secondo me sì ernane perché secondo me e cova ciccio non è un trequartista cova ci deve giocare o interno di sinistra oppure nei due se si vuole proprio osare ripeto sul rombo per me cova cicerano e possono giocare insieme però se stiamo parlando proprio di ruolo specifico trequartista ernanez per due volte su tre alla lasio ha fatto 11 gol in campionato l'anno scorso è stato praticamente falcidiato da problemi fisici ha fatto il mondiale adesso preparazione tutta con l'inter finalmente può stare bene fisicamente a 30 anni si sente bene secondo me all'apice della sua carriera noi dobbiamo cercare anzi da come si è messo il mercato ci deve andare bene che lui non parta e alla fine secondo me quest'anno sarà la sorpresa dell'inter in positivo ernanez quindi voto ernanez ma secondo me ernanez è il giocatore adatto per quel ruolo è sicuramente il migliore da quel poi l'intera scusami l'ultimissima ha pochi leader abbiamo detto solo miranda ernanez è un altro e ci serve un altro leader in campo ma secondo me hai ragione a dire che il giocatore adatto per quel ruolo e quando sta bene sicuramente può far bene sia alla lazio come ha fatto ma anche all'inter quando poi le condizioni fisiche l'hanno permesso io però credo che in questa valutazione non ci sia solo la questione personale magari di preferenza ma anche di comportamento della società mi sembra che ernanez sia sul mercato nel senso che comunque se ci fosse l'offerta giusta potrebbe partire dal mio punto di vista se si giocasse veramente con un centrocampo forte magari anche molto fisico potremmo permetterci un cova cc che secondo me dovrebbe essere un punto fermo di quest'inter e anche dell'inter del futuro con la sua qualità per fare il trequartista giocare in quel ruolo mi piacerebbe molto quindi voto cova magari a 3 cioè giocando ricordiamo che se la rosa dovesse salire a 30 la società doveva vendere 35 giocatori quindi nessuno è intocchabile tra l'altro ce l'abbiamo l'offerta giusta è giusto prendere in considerazione al conduttore ce l'abbiamo la grafica semaforica col rombo perché assolutamente eccola qua ecco questa vedi qui i ballottaggi cambiano un po a me piacerebbe giocare per esempio così cova cicerranes tutti e due il nuovo acquisto davanti alla difesa oppure abbiamo un yukuri può giocare qualcun altro con dobbià stesso per liberare il posto a brozovic sul centro sul centrodestra io io voto voto rombo però stasera è ospite quello è l'ultimo ballottaggio sul modulo io di solito lo chiedo poi abbiamo alla sinistra palassio o eventuale perisic la p il fattore p alla sinistra io io se devo essere coerente nessuno dei due perché gioco e se no gioco con uno in più gioco in 12 io ho votato sia cova cicerranes contemporanea devo togliere uno quindi risparmierei secondo me per i conti risparmiamo su perisic perché le ali li rimandiamo a dato da destinarsi palassio va benissimo in alternativa al nuovo acquisto uno tra jovedic e sala e i cardi in avanti e faccio risparmiare in questo caso un 40 20 milioni di euro più l'ingaggio però se poi vogliamo giocare per forza con le ali perisic palassio perisic palassio che vi non c'è partita invece palassio secondo me un grandissimo però a 33 anni e mezzo a posto di andare avanti andiamo indietro cioè gli chiedi quello che poteva fare di più a 25 anni quindi secondo me in corsa lo può fare quel quel lavoro la perisic verrebbe preso per giocare se viene preso per esistere giocare infatti anche qui non c'è balottaggio perisic per forza se abbiamo il portafoglio che non possiamo far mettersi comunque a raggiocatore esatto oppure comunque riusciamo a fare questo fantomatico tesoretto vendendo magari qualche pezzo pregiato sapato del nanes io ho chiesto tra virgolette come punto fermo coach ma credo che sia anche un grosso indiziato a partire a seconda dell'offerta e dell'idea tecnica tattica poi della dell'allenatore perché un giocatore in cui diciamo sempre o ci si punta o è meglio venderlo quindi perisic verrebbe per fare proprio quel ruolo palassio sarebbe molto sacrificato perché vista anche l'età può fare quel ruolo però secondo me sarebbe sbagliato partire con l'idea di giocare con le ali mettere in una delle due posizioni palassio ok molto chiaro adesso arriva l'ultimo giocatore l'ultimo ruolo quello che affascina di più il bomber ma abbastanza scontato però vi metto in difficoltà con qualche nome di mercato non si sa mai abbiamo i carri dennis quagliarella ipotetizziamo un la casette del lione ipotetizziamo un messi che arriva si è parlato di guidetti noi abbiamo parlato ieri l'ha avuto mancini al manchester city se il caldo vi convince ma io so che se ci fosse qui come opinionista che vinco è direbbe dipende dall'offerta perché se arrivano 70 milioni di euro io ci penso dovrei incontrarlo questo no a me mi affascina l'idea del parametro zero di talento 23 n guidetti perciò l'ho tirato in mezzo anche se quagliarella a me piace come giocatore poi per la lista italiani può essere utile non è facile trovare un giocatore che ha davanti i cardi e quindi sa che solo col campionato non giochi mai push casse giusto che vada a giocare avere continuità come ha detto anche il suo city della nazionale non lo so perché se arrivano sia sala o uno tra sala jovetich e perisic secondo me hai due riserve già in casa di cardi che sono uno tra sala jovetich e palacio quindi anche lì andrei sul risparmio secondo me prendiamo nei due davanti e stiamo a posto così ma io credo che vabbè i cardi sia un punto fermo giocatore che anche a me piace moltissimo grande bomber poi l'ha dimostrato è giovane capocannoniere subito alla prima occasione una grande squadra dopo che aveva lasciato qualche dubbio comunque la sandorio alcuni dicevano che non fosse un grande bomber all'inizio sembrava quindi un giocatore assolutamente inamovibile dal mio punto di vista credo anch'io come avrebbe detto un certo che rinco e mi sembra ha citato che con l'offerta giusta andrebbe via anche oggi secondo me quando ci sono stati dei rumors comunque di mercato offerte così altri parli addito di 60 milioni del real se fosse state vere sicuramente i cardi è un punto fermo e siamo tutti d'accordo ma se domani dovesse arrivare 50 milioni inserino nessuno nessuno e tra quelli che erano sul mercato quest'anno un vecchio pallino alla fine sarebbe radame il falcao ricordatevi bene la cosa il vecchio giuse è andato a richiamare un giocatore che tutti davano per fallito perché sa che ha voglia di riscatto falcao al caso è andato a cercare la presse in prestito se i cardi domani arriva l'offerta di 50 milioni cosa ti impedisce a te di andare a prendere falcao non comprandolo con una montagna di soldi ma con la voglia che ha disegnato il pacco a livello di soldi fai anche un bel ricavo voglio dire no assolutamente comunque serve anche un'alternativa secondo me i cardico e bomber vero bomber proprio di razza da dare secondo me anche le alternative che sono fatte dennis quagliarella poi se sono giocatori che vengono magari a 0 euro su dennis io ho più qualche dubbio non andrebbe male tutti i gol che ha fatto con la maglia dell'atalanta non mi sono andati tanto giù ma non lo so quest'anno forse ha avuto anche dei problemi fisici è stato l'anno diciamo che ha fatto un po meno bene però avuto anche qualche problema negli spogliatoi con io metterei in ballottaggio ultimo ballottaggio con le schede facciamo finta che ci sono delle schede che moratti tohir l'ultimo ballottaggio michele me lo chiedevi anche prima 4 3 1 2 o 4 2 3 1 tutta la vita 4 3 1 2 perché in serie a ricordatemi una squadra che ha vinto con le ali lo scudetto io mi ricordo la roma di capello però aveva del vecchio che non era una vera ala era sì un esterno ma un esterno che difendeva quasi a livello di terzino quando l'inter ha giocato con pande vede toh e toh disse non so murigno come ha fatto a convincermi adesso non lo voglio fare più quindi che devi trovare l'allenatore che poi ti fa fare gli esterni come diceva prima kevin gli esterni che oggi leggiamo noi shakiri palazzi o poi fanno i centrocampisti o i miei dubbi secondo me sono moduli per partite in corso ma se tu hai un centrocampo come c'era all'interne ai 7 8 di giocatori uno più bravo dell'altro brozo di secondo bia kovaci cernanes lo stesso shakiri che può fare i trequartista medel perché andarci a complicare la vita con un uguri tra l'altro in casa che promette molto molto bene a fare anche quello che dette i tempi io lascerei le cose come stanno e darei continuità a un modulo che la squadra ha già recepito le ali secondo me sono delle mode o ai robben e riberio ai beckham e giggs oppure lasciamole al city al bairmon ecco no io ho visto l'entusiasmo del momento dopo due anni di testa basse tutto voglio fare meno irrazionale del direttore quindi faccio trascoltare esatto dall'entusiasmo del calcio champagne quindi voto 4 2 3 1 magari giocare finalmente con le ali è un gioco più offensivo è vero forse un po meno equilibrato come dici giustamente tu però mi devo votarmi al al mancini pensiero per forza io però ti chiedo l'ultimo ballottaggio mi permetto di sostituirmi a che perché lui non può rispondere a questa domanda mancini o la coppia scansianico e in pagina allora io voto la coppia scansianico e perché secondo me il mandato di mancini dovrebbe finire alle 23 del 31 agosto perché il numero uno a costruire le squadre poi ad essere più diciamo così a leggere la partita mi piacerebbe tanto vedere la coppia scansianico e in pagina sì sono d'accordissimo assolutamente non c'è partita neanche qui mancini e invece io ho totale fiducia del mister e ci riporterà in champions league quindi tutto chiaro è tutto ma insomma non siamo stati d'accordo su tanti no non so tutto è tutto chiaro per i telespettatori più che altro speriamo vedo che adesso speriamo che sia chiaro per mancini soprattutto esatto va bene in solito mi rimproverano perché nelle video news non non sono breve ma tu mi batti abbiamo esploso il tempo esplode il tempo niente quindi al volo al volo di fretta saluto alberto piton il nostro direttore michele morelli grazie grazie a te che domani continua inter tv vi aspettiamo io vi saluto e vi auguro una buona vacanza arrivederci grazie a presto